The match, mentre Volce Scesni sta chiamando la difesa e tutta la Roma ritorni in aria di rigore. Vediamo qui la roma, come lo saluto a noi, da questo angolo a partire direttamente verso l'aria di rigore, a Follatissima, proprio davanti a Scesni, praticamente tutti la ricorsa di Fosi e Gulloni. Palla nostra, con Issae, la tiene, la tiene, forse un po' troppo, poi allarga il gioco nella zona di Gioci, il suo intervento a scambiare con Insigne, Lorenzo è in signe, non filtro il suggerimento, la cura quella dei rossi, in avanti per Giacomo, chiuso da Albion, ribatte Issae, poi Cagliacombe, a cercare insigne, la insegue in radio, dal contesto per la Scesi. Tiro di pace, tiro di pace.